Che cosa dobbiamo fare ora? Che cosa possiamo fare ora? Che cosa dobbiamo fare ora? Che cosa dobbiamo fare ora? Impegnarci tutti per il bene comune. Impegnarci tutti per il bene comune. Questo è quello che possiamo fare. Questo è quello che dobbiamo fare. Che cosa dobbiamo fare ora? Che cosa possiamo fare ora? Ora che le cose sembrano andare bene. Ora che le cose sembrano migliorare. Andiamo impegnarci tutti quanti a rispettare le regole. Ancora di più. 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 Che cosa dobbiamo fare ora? RISPETTARE LE REGOLE Che cosa dobbiamo fare ora?